Caterina Ballivo infastidita dalla confessione di Cristiano Malgioglio Caterina Ballivo infastidita dalla confessione di Cristiano Malgioglio Il gossip su Caterina Ballivo. La replica della conduttrice. Come molti fan del Grande Fratello Vip sapranno bene, circa una settimana fa Cristiano Malgioglio ha lanciato un gossip, che ha lasciato tutti di stiucco Cosa ha detto? Il noto cantautore, parlando con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani, ha rivelato che anni fa Caterina Ballivo è stata corteggiata dall'attore Brad Pitt Tuttavia, in base a quanto asserito da Malgioglio, pare che Caterina abbia snobbato le lusinghe dell'ex marito di Angelina Jolie e di Jennifer Aniston. E, nell'ultima puntata settimanale di Detto Fatto, Giovanni Ciacci ha voluto tornare su questo argomento, asserendo Malgioglio Malgioglio ha parlato al Grande Fratello della tua storia con Brad Pitt. A quel punto Caterina è sembrata essere un po' infastidita da questa rivelazione, replicando Piccata allo stilista Ma perché devono parlare della concorrenza? Che la Ballivo non abbia gradito molto questo gossip lanciato da Malgioglio. Insomma, quest'ultimo, dal momento in cui è entrato nella casa più spiata dagli italiani ha catalizzato l'attenzione dei tanti telespettatori Che l'uomo possa vincere la seconda edizione del reality show condotto da Ilari Blasi. Comunque sia questa non è certo stata una settimana semplice per l'autore di Nina Caterina Ballivo ha detto Fatto risponde a Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio è stato molto colpito dalle due eliminazioni di Serena Grandi e di Carmen Di Pietro, asserendo di non vivere più bene nella casa più spiata dagli italiani senza il loro sostegno Finita qua? Nemmeno per idea perché ha anche avuto una pesante discussione con gli altri inquilini della casa perché è stato accusato di aver messo il classico carico da 90 nel duro confronto di lunedì scorso tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini, facendo un intervento poco apprezzato. Motivo per cui ha dichiarato di voler abbandonare il grande fratello Vip anzitempo perché stufo di questa situazione. Tuttavia la produzione è riuscita a fargli cambiare idea, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto. Ma i problemi per il concorrente pare non siano finiti qua. Difatti, come detto poc'anzi, Caterina Ballivo ha detto Fatto è sembrata essere abbastanza infastidita dal gossip lanciato da Cristiano Malgioglio qualche giorno fa. Potrebbero esserci altri colpi di scena nelle prossime ore? Potrebbero esserci altri colpi di scena.